Meno monopattini, meno piaccheri sull'ambiente, noi siamo operativi, chiaramente questo è un atto simbolico, chiediamo al Comune la pianofilmazione seria, organizzata e strutturata su tutta la città di Roma. Siamo stanchi a vedere bonsiponi di alberi, pattiniere lasciate in giro, perché l'albero è il decoro, meno il guidamento, ma soprattutto un'attenzione allo splendore della città. Su tutti i municipi stiamo assistendo ovvero sempre dal punto di vista ambientale o appartimento di alberi e quant'altro, noi siamo qui oggi in operativi, al massimo lo faremo su tutti i territori, su tutti i municipi, perché in realtà lo slogan, meno monopattini, meno solidificazione, più verde nella nostra città è fondamentale, non metteremo avanti nelle aule preposte. Grazie.